Ricerche ancora aperte in montagna, manca oramai da tre giorni, Ido Boff, 59 anni, di Seren. L'uomo era partito sabato mattina per un'escursione sul massiccio del Grappa e dalla quale non ha più fatto ritorno. Una task force di 80 uomini lo sta cercando sul versante bellunese del massiccio. Soccorso alpino, pompieri, guardia di finanza e protezione civile stanno battendo palmo a palmo il territorio con l'aiuto di GPS e unità cinofile. A segnalare la scomparsa dell'uomo è stata la sorella già nel pomeriggio di sabato. L'uomo è stato visto l'ultima volta attorno alle 15 sulla strada che sale verso località Guizza e quindi i soccorritori si sono concentrati sull'area del Fondovalle e su tutto il versante del Monte Roncon. Il territorio è stato suddiviso in una trentina di zone affidate ad altrettante squadre, le quali hanno tracciato con il GPS il percorso seguito. Ido Boff, magro, alto 1,80 m, capelli corti castani e una persona mite ben voluta da tutti. Sabato indossava un paio di jeans e un gilet grigio. I sentieri che partono da Seren per lui hanno pochi segreti. Questo aumenta le preoccupazioni tra i familiari e gli amici.